ciao a tutti amiche del canale bentornati in questo nuovo vlogmas allora mi sono già preparata adesso vi faccio vedere come sono vestita e sto andando a fare la spesa e domenica pomeriggio sta anche piovendo oggi però purtroppo devo uscire perché ieri che era sabato non me la sentivo di uscire appunto e quindi devo praticamente per forza fare la spesa oggi perché comunque mio marito mi dava una mano e perciò andiamo insieme è stata una settimana un po malaticcio per noi perché io e chilena siamo stati male abbiamo avuto l'influenza quindi praticamente mi sto recuperando adesso per quanto riguarda le mie forze perché sono state proprio tre giorni a letto infatti mio marito è dovuto stare a casa da lavoro perché io non ho nessuno che mi sostituisce al di là di lui e quindi ha preso appunto questi giorni per stare dietro a chilena e comunque non è che stavo sempre a letto mi dovevo alzare per cucinare e quant'altro però grazie a dio ne siamo usciti quindi adesso piano piano sto recuperando appunto le forze e l'energia che ho perso in una settimana purtroppo sono i malanni di stagione qui la temperatura è diminuita all'improvviso come al solito e quindi era normale che prendevamo anche noi quest'anno questo malanno comunque adesso è superata perciò possiamo andare avanti allora e vi faccio vedere come sono vestita questo è un nuovo che ho preso da hm io adoro i vestiti di hm io sono una persona molto selettiva per quanto riguarda l'abbigliamento voi lo sapete perché mi conosce da tempo io sempre vado alla ricerca di capi che mi soddisfano e soprattutto neutri quindi io vado per quanto riguarda l'inverno e l'autunno vado dal nero al beige dal marroncino dal panna questi colori qua sono quelli che utilizzo maggiormente ma soprattutto il nero lo sapete per me il nero è un colore che che sta bene sempre che qualsiasi stagione anche in estate lo sapete che io indosso il nero comunque adesso vi faccio vedere allora anche se sta piovendo io mi sono voluta mettere lo stesso le scarpe queste qui sempre che ho preso da km perché le trovo abbastanza comode quindi non avevo voglia di mettermi gli stivali e poi ho messo questi jeans neri e alla fine questo maglione che poi tra l'altro ho scoperto che sto maglione ha un collo altissimo perché io l'ho comprato sì però non pensavo che fosse così alto questo collo però l'ho girato però vabbè dai per questa stagione va bene perché comunque mi copre dal freddo quindi questo è l'abbigliamento di oggi allora spero che vi stanno piacendo i vari video che sto mettendo in questo mese ho cercato di variare un po tutta la tipologia di video anche se sono di 5 10 minuti spero comunque che apprezzate lo sforzo che ho fatto per girarli perché sapete che il mio tempo è diminuito per quanto riguarda registrare video quant'altro quindi ho cercato di fare veramente tanti tanti salti grandi per poterli girare e mettervi appunto in questo mese quindi spero che vi tengono compagnia quei 5 10 minuti che siano appunto come ho detto prima e che non vi annoino soprattutto perché comunque sapete il mio canale è molto semplice nei contenuti ogni tanto condivido quello che la mia vita quello che che sono le cose della nostra della nostra quotidianità quindi non solo a spesa e alcune riflessioni insomma quello che che la mia vita praticamente quindi spero veramente che vi tengano compagni anzi se non sei iscritto e se qui per la prima volta ti piace iscriverti iscriviti perché gratis attiva la campanella ricordatevi che questi video stanno uscendo un giorno sia un giorno no purtroppo non riesco a fare un blog massa al giorno perché veramente impegnativo sapete che io neonato adesso quindi che tra l'altro questo mese compirà un anno è volato proprio il tempo e vi ho scritto nella community un post dove vi chiedevo di farmi qualsiasi domanda curiosità che avete su di me sulla mia famiglia su sulla gravidanza sul neonato su sui miei figli qualsiasi argomento qualsiasi cosa potete chiedermela fatemi la domanda qua sotto così riunisco un paio di domande vi faccio magari un video apposta per quanto riguarda appunto le curiosità su di me perché magari c'è qualcuno che è venuta da poco nel canale magari non sa tante cose mi piacerebbe insomma fare questa tipologia di video per chiacchierare un po' insieme e conoscerci meglio perché giustamente dovete conoscere anche me che sono la persona che fa i video e non voglio che sia io una persona estranea a voi quindi mi piacerebbe proprio condividere questo chiaramente non condivido tutto a 360 gradi perché preferisco così ma sapete come la penso su determinate cose e quindi adesso mi continuo a preparare ci vediamo dopo vi faccio vedere un po' lo svuoto della spesa di oggi allora qua i pannolini hanno questi prezzi noi andiamo direttamente a prendere gli altri grazie a tutti allora ragazzi eccomi tornata a casa da un bel po' diciamo mi sono tolta tutti gli indumenti mi sono già anche cambiata ho sistemato la spesa qui sul bancone così vi faccio vedere quello che ho acquistato mi era praticamente terminato quasi tutto per quanto riguarda le cose del frigo quindi verdura, frutta, carne poi ho comprato alcuni detersivi insomma altre cose che adesso vi faccio vedere ma prima vi faccio vedere una cosa interessante dalla mia tv perché quando arriva questo periodo praticamente io metto sempre uno sfondo musicale con una bella immagine e questi sfondi chiaramente li trovate su youtube e li ho messi nel mio guarda più tardi quindi ogni volta che voglio ascoltare questa musica basta che vado lì e li vado a cercare e mettere allora l'immagine è questa ed è praticamente la casa di mamma ho perso l'aereo quindi trovate questo effetto molto carino più una musica come sottofondo quindi mi piace proprio creare questa atmosfera a casa perché mi rilassa allora lì c'è l'aspetto allora soprattutto ho preso le brioche per mio figlio perché lui se ne porta a scuola oltre al panino che li faccio ogni giorno io li faccio un panino imbottito con la mortadella o con il prosciutto dipende ed è tutto pane fresco quindi lo compro, lo congelo e poi all'occorrenza lo scongelo ho preso il tonno, poi i biscotti da questa parte abbiamo una serie di carne quella che noi utilizziamo, che mangiamo di più è questa qui poi una bottiglia di tè come prodotti ed erano anche in offerta, meno male c'è questo qui che è la morbidente di Honor, io non cambio mi trovo bene con questo e mi piace usare questo e come detersivo per la lavatrice invece per lavare i vestiti questo di acea e anche questo qua era in offerta da questa parte abbiamo le zucchine poi abbiamo una salsa pronta che compro sempre questa qui di Benvenuti in Sicilia le patate, una confezione di spinacino poi ho preso queste due confezioni di soffritto perché mi agevolano molto quando non ho tempo quindi ho preso sia questo qua misto che ha il sedano, la carota e la cipolla e poi ho preso questo con il prezzemolo e l'aglio da questa parte ho preso invece i piselli bastoncini di merluzzo con i gamberetti io con questo qua faccio praticamente un'insalata buonissima poi ho preso questi cioccovaffer e della Milka che sono strepitosi una testa di cavo e fiore da questa parte abbiamo le carote i pomodorini poi come pasta sto prendendo in questo periodo questa qua di livella che è quella che costa un po' di meno rispetto alle altre dato che ho aumentato tutto e mi trovo abbastanza bene anche con questa marca qui poi abbiamo il raguggia pronto che poi tra l'altro avevo scritto anche di comprare le lasagne ma le ho dimenticate ma va bene lo zucchero di canna che uso sempre del sedano poi le uova da questa parte mi ho preso una confezione di queste spugne che sono quelle che utilizzo per lavare i piatti purtroppo io ancora non ho la lavastoviglie e quindi ogni volta mi tocca sempre lavare tutto a mano però vabbè pazienza poi ho preso il pan brioche che è quello che mangio io a colazione e adesso vi faccio vedere questa busta allora adesso vi faccio vedere il bustone innanzitutto ho preso questa confezione di pan di stella ogni tanto mi piace mangiarle ma anche a Thomas e quindi ho preso poi ho preso queste coste mi piace farle bollite chiaramente si mangiano così ed è il periodo in cui si mangiano praticamente e le ho volute appunto prendere poi ho preso una testa di lattuga questa qua è l'insalata romana poi ho preso una testa di broccolo non può mai mancare le banane le mele i mandarini poi allora ho preso questa mozzarella julienne senza lattosio due confezioni di grattugiato ragazzi ho preso tre confezioni di pasta sfoglia c'è qua si consuma tantissimo perché a me piace farle che siano salate che siano dolci mi piace quindi questo è proprio il periodo per me delle paste sfoglie poi ho preso gli aclut per Thomas la robbiola quella che mangiamo tutti praticamente nello svezzamento di Kylian ho introdotto la prima per primo come formaggio proprio questo qui e sto continuando a darglielo invece per me ho preso questi iocca senza lattosio come i yogurt invece quelli che mangia Kylian sono questi qua i yogurt intero della Vipiteno sono buonissimi e poi ho preso i bustel una confezione di prosciutto allora come pasta per Kylian sto dando i semini per la prima volta invece introduco questi qua che sono i fili d'angelo sarebbero gli spaghetti quelli proprio piccolissimi sminuzzati piccoli e poi introduco anche il riso finalmente ed è questo qui sempre di Mellin poi tra l'altro più avanti gli darò il riso basmati perché comunque è anche più piccolo di questo quando è cotto è anche morbido quindi è facile da mangiare per lui però intanto ho preso questo e vediamo come va perché questa settimana ho introdotto il riso con qualche cosa all'interno riso con la salsa o riso con i fagioli adesso vi racconto di questo calendario un attimo allora praticamente qual è la storia di questo calendario io volevo comprarmelo l'ultima volta che ho fatto la spesa però ho detto vabbè dai in questi giorni ci torno e me lo compro alla fine che cosa è successo mi sono ammalata quindi sono stata una settimana dentro alla fine è passato il primo dicembre e non ho potuto diciamo aprire le caselline quindi oggi me lo sono comprato con quattro giorni di ritardo ma vabbè lo apriamo insieme allora intanto cerchiamo la casellina numero uno perché le dobbiamo aprire fino a oggi beh il classico cioccolatino baci per perugina io ho scelto questo calendario perché mi piacciono i cioccolatini di questa marca ora andiamo a cercare il 2 che è qui questo sicuramente con il cioccolato bianco il 3 qua sotto questo sarà col cioccolato fondente e l'ultimo è quello di oggi che è il numero 4 eccolo qua quindi oggi abbiamo trovato 4 cioccolatini beh io li vado a mettere direttamente lì che è il mio porta cioccolatini buongiorno ragazze siamo il giorno dopo poi ieri tra una cosa e l'altra non ho più girato nessuna clip però volevo farvi vedere i piccoli acquisti che avevo fatto ieri mentre sono andata a fare la spesa allora innanzitutto ho preso questo pigiamino per Kilian avevo anche il 25% di sconto e quindi ne ho approfittato e l'ho preso chiaramente ho preso una taglia a 12 mesi perché ormai è quella beh per Thomas ho preso un paio di pantaloni da OVS invece e poi una chicca che ho trovato lì da OVS io sono fissata con le tazze particolari con i bicchieri particolari e quindi alla fine ho scopato questo qui guardate che è carino è plastica dura fatta in questo modo con le orecchie in renna troppo bella troppo carina mi è piaciuta quindi me la sono presa perché tanto a me queste cose durano nel tempo quindi ne ho approfittato poi ho preso semplicemente un mascara da Kiko e le patch quelle per gli occhi sapete che io utilizzo molto le patch e come come mascara invece ho preso l'unforgettable che è quello che mi piace di più per quanto riguarda Kiko come marca e mi dura molto quando lo metto durante la giornata quindi quello lì è veramente promosso e Kiko mi sta dormendo quindi ne ho approfittato per girare queste piccole clip per farvi vedere appunto questi piccoli acquisti e ci tenevo anche a salutarvi e chiudere il vlogmas salutandovi perché capita che faccio dei video magari non vi saluto ma non perché non voglio salutarvi ma proprio perché magari la stanchezza le cose quindi smetto di girare e basta però ci tengo appunto a salutarvi in questo vlogmas e ringraziarvi per guardare i miei video quindi se vi fa piacere iscrivetevi nel mio canale lasciatemi un like di supporto un commento un saluto se volete mi trovate su Instagram sapete che io là sono quasi sempre presente perché è un social che mi piace perché parla delle fotografie ci vedono tante cose belle adesso vanno di mode real quindi tutti questi video particolari quindi se volete mi trovate lì e se volete ci vediamo in un prossimo video ciao